E gioco forse una fase di stallo per l'Avellino sul calciomercato. Dopo quanto accaduto per la trattativa Giacomelli, sono giorni di confronto tra società e tecnico per definire le strategie future. Secondo Indiscrezione ci sarebbe stato ovviamente un dialogo sereno e costruttivo tra le parti, ma soprattutto comunione di intenti per le linee guida sui profili che tatticamente occorrono a Novellino. Sono sempre tre i calciatori che il tecnico ha richiesto, un difensore, un trequartista ed un attaccante. Poi, però, bisognerà capire anche il mercato in uscita, dove resta in lista di sbarco Paghera, che anche a Verona potrebbe non essere convocato. In questa lista di chi è in uscita non figura certamente a Senzio. L'attaccante del Genova è e resta in Irpinia, avrà sicuramente tutto lo spazio che merita, ma innanzitutto Novellino dovrà trovargli una collocazione. Con il Genova a primavera, Senzio ha rivestito il ruolo di punta centrale, realizzando ben venti gol. Il tecnico Irpino lo vede più come esterno e non come eventuale alternativa ad Ardemanni, ma nulla escluso. Non si muoverà neanche Camarà, sul quale Novellino crede molto, mentre resta sempre in uscita su Marecche, si spera possa accettare l'offerta della casertana. E così in entrata resta sempre in pollo la pista per Marchizza. Nelle ultime ore si è vociferato di un interessamento del Benevento, che però non trova conferme. Marchizza è un promesso sposo dell'Avellino e dopo Ferragosto ci sarà il Via Libera. Più ingarbugliata la questione per quanto concerne l'attacco, tra i tanti nomi fatti e circolati in queste settimane, non si esclude che l'Avellino possa virare su nuovi profili, perché il calciomercato ci insegna che i colpi di scena sono all'ordine del giorno.